Graziella Cirilli, responsabile dell'istruzione nella Regione Marche. Oggi, 9 maggio, è la giornata dell'Unione Europea. Cosa pensa che significa questa giornata per l'istruzione? È una cosa particolarmente bella che una festa, una gara, ma anche una festa per i giovani sia tenuta proprio in questa giornata. Giornata dell'Europa, dove i giovani sono al centro delle politiche dell'Europa anche per la costruzione di questa unità di popoli per la pace, per la serenità e per lo sviluppo. Le politiche dell'istruzione sono al centro dell'Europa come lo sono anche nella Regione Marche che grazie al Fondo Sociale Europeo fa numerose iniziative a favore di questi giovani. Già a partire dalle scuole superiori, dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Penso e ricordo velocemente progetti quali l'Italiano per gli stranieri. Un progetto molto conosciuto dai giovani è l'English for You, progetto nel quale viene consentito ai giovani di acquisire certificazioni di lingua inglese molto importanti per l'inserimento nel mondo del lavoro ma anche per la costruzione di questa idea di Europa perché la prima cosa che devono fare i giovani è comunicare tra di loro, scambiarsi esperienze. E questo progetto poi consente anche ai ragazzi di andare tre settimane all'estero per approfondire la conoscenza linguistica. Altre cose che facciamo, progetti di alternanza scuola-lavoro, che non si limitano, che sono fondamentali ma non si limitano esclusivamente ad andare in imprese del nostro territorio ma anche fuori regione, anche all'estero e conoscere altre esperienze. E questo solo per questo segmento di scuola. Però vorrei parlare in particolare di questa iniziativa perché è importante? Perché mette insieme tanti giovani di tante scuole che possono confrontarsi anche sulle loro capacità, le loro abilità e verificare effettivamente gli apprendimenti e quello che la scuola gli ha dato. È una cosa molto sentita, molto importante, che per noi è un piacere seguire perché questo messaggio positivo di sana concorrenza per i giovani secondo me è una cosa molto molto importante. Quindi faccio tanti auguri all'iniziativa che anche proseguirà e che cercheremo di seguire anche più da vicino per il prossimo anno ma faccio anche tanti auguri a questi giovani anche per il loro futuro e perché capiscano bene il senso dell'Europa e quanto i fondi strutturali e tutte le esperienze dell'Europa possono loro dare a partire dal Fondo Sociale Europeo che è quello di cui già hanno usufruito in questi anni. La propria istruzione passa anche per una corretta conoscenza del proprio territorio. Siamo ricchi di bellezze naturali, culturali, però i ragazzi non apprezzano quello che hanno. La Regione Marche fa qualcosa per far conoscere meglio, apprezzare il proprio territorio e ricavare da questa conoscenza anche una fonte lavorativa? Allora, la Regione Marche, io seguo più il settore dell'istruzione però il turismo è una delle priorità nel sviluppo economico di questo decennio. Per quanto riguarda l'istruzione vi posso annunciare che il quarto ITS che è l'istruzione tecnica superiore partirà proprio nel settore del turismo e valorizzazione dei beni culturali. Se mi è consentito due parole di cos'è questa istruzione tecnica superiore. L'istruzione tecnica superiore è un post diploma per ragazzi che frequentano scuole tecniche professionali. fanno quattro semestri, quindi due anni, hanno un diploma di scuola tecnica superiore. La Regione da questo punto di vista finanzierà anche dei corsi e finanzierà misure di sistema in modo che ogni anno, ogni anno a regime possano uscire circa 40 giovani che proprio dovranno valorizzare il proprio territorio, avranno competenze per poterlo fare. Altre iniziative altrettanto importanti che seguiamo a livello di istruzione per esempio la produzione di e-book che trattino le discipline anche attraverso il territorio e quindi questo dal settore istruzione. Non parlo degli aspetti anche più economici perché c'è una valorizzazione delle strutture, una valorizzazione anche dell'internazionalizzazione della nostra Regione che è considerato assolutamente prioritario.